Programma tricolore per Simone Baroncelli che ha ufficializzato la sua partecipazione alla campionato italiano rally Terra. Massima espressione per i fondi sterrati che si articola in 5 appuntamenti. Il primo sarà il rally adriatico in programma ai prossimi 3 e 4 maggio a Cingoli in provincia di Matera. Per il 24enne pistoiesi portacolori della scuderia Jolly Racing Team sarà l'occasione per misurarsi in un contesto di assoluto livello con la sua Peugeot 208 R2B messa a disposizione dalla team GF Racing. Ad affiancare Simone Baroncelli come copilota Simona Righetti. Il campionato italiano rally Terra vedrà poi la gara sugli sterrati del rally d'Italia Sardegna a metà giugno. Il giro di Boa alla San Marino Rally a luglio per poi concludersi con il Nido dell'Aquila Nocera Umbra e il Tuscan Rewind a Montalcino. Quest'anno parteciperemo al campionato italiano rally Terra che è una grandissima occasione e spero di sfruttarla al meglio anche perché sono molto innamorato di questo fondo considerato che ci corro fin da quando ho mosso i miei primi passi in questo mondo da quindi 3 anni fa. È una bella occasione, cercheremo di sfruttarla al meglio. Correremo con la 208 R2 del team GF che è una vettura per noi giovani e con molto potenziale quindi anche questo è un obiettivo quello di cucirsela addosso il meglio possibile e conoscere la macchina per fare bene. Correrò con Simona Righetti che mi accompagnerà in tutto il campionato. Abbiamo fatto un test insieme e le prime impressioni sono state veramente buone quindi sono sicuro che troveremo un giusto feeling subito fin dall'inizio. La nostra scuderia sarà sempre la Jolly Racing Team che ci accompagnerà mai fin dagli esordi e non vedo l'ora di partecipare perché siamo molto contenti.